Che ha detto? Non dice gatto se non hai un sacco, eh? Si è visto con Zamparini in questi giorni? Proceda alla trattativa? Veramente posso dire, mi preferisce lavorare in silenzio, privato, perché se vuoi fare qualcosa si deve trovare così, se no non si fa niente. Sono un persona serio in questo momento, in questa trattativa, allora non si può fare parlare, parlare, significa niente. Parliamo quando è finito e poi c'è qualcosa di parlare. Zamparini però ha parlato e ha detto che siete a buon punto. Lei condivide questa valutazione? Diciamo che siamo in un momento che stiamo andando avanti, è un momento serio, intenso, allora si deve fare con calma. Permesso, grazie. Perché niente è fatto. È ottimista lei? Parliamo tutti. Per ora non si può parlare.